Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, in questi ultimi due o tre anni sono nati molti movimenti nel mondo del dissenso e anche alcuni partiti. Questo perché ci sono italiani che non si sono assolutamente sentiti rappresentati dalle istituzioni e neppure difesi da coloro che dovevano difendere anche, ad esempio, le minoranze e dovevano essere difesi per quanto riguarda le loro scelte in materia di cure e per quanto riguarda il lavoro. Cose ampiamente sancite dalla nostra Costituzione, la libertà di poter scegliere le cure e soprattutto il fatto che il lavoro è un diritto. Ecco, tutto questo è stato tolto agli italiani senza che nessuno, ripeto, dei partiti politici intervenisse se non qualche parlamentare quasi a titolo personale. Detto questo però, dobbiamo avere chiaro, secondo me, che il vero pericolo nel nostro paese è l'ideologia di sinistra. In questi giorni si fa un bel parlare di fascismo, subito hanno avuto modo di attaccare Giorgia Meloni per quanto riguarda il fascismo che sappiamo perfettamente non essere assolutamente più un pericolo. Tanto che i partiti del centrodestra spesso si sono venduti al sistema, sistema che in Italia è rappresentato dal partito democratico e quindi altro che fascismo. Mentre, ripeto, molto molto pericoloso è l'ideologismo di sinistra. Ieri ne abbiamo avuto una riprova in Parlamento dove ora siede un certo scarpinato, ex pubblico ministero, ex magistrato, che praticamente nel suo intervento, vi invito ad andare ad ascoltarlo, ha fatto un intervento di odio, un intervento ideologico, un intervento che ci fa molto riflettere che magistrati, che uomini di giustizia siedono nelle aule di giustizia in Italia e con quale metro di giustizia vengono condannati o assolti gli italiani. Ecco, questo è molto molto preoccupante, tanto che io ritengo che nei confronti di Scarpinato ci dovrebbe essere una commissione d'inchiesta per andare a verificare i suoi 20-30 anni di carriera, perché sicuramente, voglio dire, quando si ragiona solamente da un punto di vista ideologico è chiaro che non si applica quello che invece dovrebbe fare un magistrato, cioè la legge, ma semplicemente si viene influenzati appunto dalla ideologia e a secondo della questione che ti capita di dover affrontare o delle persone che magari devi giudicare, questo ha un peso determinante ed è questo il vero pericolo. Lo abbiamo visto anche l'altro giorno alla Sapienza, dove si è cercato di non far parlare qualcuno perché magari la pensava diversamente da loro, tra l'altro poi raccontando, adesso questo sta venendo fuori nelle ultime ore, anche delle bugie colossali che loro volevano così appendere uno striscione e questa è la ragione per la quale sono intervenute le forze dell'ordine. Una falsità allucinante perché la vera ragione è che loro non volevano far entrare nell'aula magna, cappezone ed un esponente di Fratelli d'Italia. Questa è l'unica ragione perché altrimenti è di tutta evidenza che le forze dell'ordine mai sarebbero intervenute. Questo però è la sinistra, è la sinistra pericolosa, è la sinistra che quando tu non la pensi come loro intervengono, cercano di zittirti, cercano anche talvolta con la forza di vietarti di parlare, di vietarti di intervenire. Quando però questo succede dall'altra parte o addirittura quando non succede se lo inventano come è successo molto spesso nelle manifestazioni contro il Green Pass ad esempio e anche in altre circostanze. Quindi ripeto, giusto attaccare un centrodestra che non ha difeso i lavoratori, che non ha difeso il popolo italiano nelle sue scelte legittime, però ripeto, ancora più pericolosa è questa ideologia di sinistra che sin dalle scuole rappresenta un pericolo per la crescita dei nostri ragazzi. Lì sì che viene fomentato l'odio, altro che il fascismo che ormai credo davvero è alle spalle, ma lo dimostrano anche i fatti, proprio quello che stavo dicendo, perché anche i partiti di destra si sono venduti ormai al sistema e quindi tutto quello che praticamente viene proposto dalla sinistra, dagli Stati Uniti, lo abbiamo visto anche a proposito della guerra, disciplinatamente viene messo in atto dai partiti di destra. E abbiamo visto anche la scenetta dell'altro giorno tra Draghi e la Meloni, no? Draghi da buon padre che manda avanti la figlia, no? Ma gli avrà giustamente detto, fai la brava però, metti in atto gli insegnamenti che ti ho dato, non cercare di sgarrare nella linea politica, cerca di seguire le mie direttive, quello che esattamente farà Giorgia Meloni. Quindi niente di nuovo all'orizzonte, semplicemente sarà una politica filo-atlantista, filo-americano che sappiamo perfettamente che obiettivi ha. Quindi attenzione al di là di criticare giustamente che si è venduto al sistema, attenzione però alla ideologia di sinistra che troviamo ovunque, troviamo nelle scuole, troviamo infiltrati nelle piazze, troviamo nelle istituzioni, troviamo nella magistratura. È questo che noi dobbiamo continuare a combattere. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.